La Lazio paga con un turno di squalifica i cori razzisti che hanno animato la sfida del Via del Mare contro il Lecce. I Buh che avevano accompagnato Umtiti e Banda fin dai primi minuti del match avevano portato l'arbitro Marinelli a sospendere il match per alcuni minuti con la società capitolina che in un comunicato ufficiale aveva condannato l'atteggiamento dei propri tifosi. Nel pomeriggio è arrivata anche la decisione del giudice sportivo che ha deciso di squalificare la curva bianco celeste per un turno. La squadra di Sarri giocherà senza il supporto della propria tifoseria la sfida di domenica contro l'Empoli di Paolo Zanetti. I predetti comportamenti assumono rilevanza di sciminare a norma dell'articolo 28 numero 4. Sì! Grazie a tutti.